Con 50 anni di passione, serietà e riqualificazione nel settore ottico, dal 1956 l'Ottica di Maio offre cordialità di esperienza al servizio dei clienti. Lava dei Tirreni, Corso Umberto I, 331. Si lavora lacrimente per trovare una soluzione alla problematica relativa alla chiusura di via Pasquale di Domenico, la stata provinciale 360 interessata da un cedimento della sede stradale. Infatti, grazie alla collaborazione tra l'ente provincia che ha competenza sulla strada ed il comune, si sta cercando in tutti i modi di ridurre i tempi di attesa per l'inizio dei lavori e quindi di alleviare i disagi ai residenti di Sant'Anna. Intanto, la scorsa notte, le barriere di cemento poste per chiudere la strada sono state spostate dai noti. Dal canto suo, il consigliere Vincenzo Lamberti, in un incontro avuto con il sindaco Servalle e col dirigente del settore viabilità della provincia, Domenico Ranesi, ha chiesto di valutare la possibilità di aprire metà strada in attesa dell'inizio dei lavori per consentire almeno il passaggio delle sole macchine a senso unico alternato e di evitare quindi grossi disagi ai residenti. Intanto, anche un'altra importante arteria è a serio rischio e sta causando tanti disagi ai cittadini di San Cesario e Castagneto. Si tratta di via Gaetano 5. Effettivamente, via 5 rappresenta in questo momento uno dei problemi più importanti che ci coinvolgono. Abbiamo dovuto seguire delle linee dettateci dai tecnici che ci hanno imposto di limitare la circolazione solamente ad un senso di macchia, quindi ad un senso di alternato e di garantire la circolazione solamente ai autoveicoli, limitandola ai veicoli pesanti. Tutto ciò per garantire delle condizioni di sicurezza alla circolazione. Però da parte nostra c'è il messo di impegno, abbiamo fatto anche delle lettere sia a Genocivile ma anche alla Regione Campania per reperire i fondi necessari alla riattazione di questa strada. Ci saranno dei problemi dal punto di vista burocratico, però abbiamo anche un'alternativa. Insieme al Sindaco pensiamo di accendere un mutuo per un importo di circa 700 mila euro per effettuare questi lavori. Castagneto e San Cesare, parliamo di circa 5 mila cittadini, sono ormai da due anni privati di questa strada. Sostanzialmente noi assistiamo a Via Caetano 5 ad un problema franoso che da due anni non ci viene detto cosa bisogna fare per questa strada. C'è stato un impegno, e non entro poi nel merito del perché, scusatemi, dei 700 mila euro di lavori. Poi questo lo vedremo perché ho chiesto all'annunzio senatore e al vice sindaco di avere un quadro economico chiaro di perché ci vogliono 700 mila euro per risolvere un problema di Via Caetano 5. Perché presumibilmente voglio capire di preciso quali sono i veri lavori tenuto con... I veri lavori, scusate, quali sono i lavori che bisogna necessariamente realizzare per risolvere definitivamente il problema di Via Caetano 5.